La nuova puntata La stanza del sindaco, torniamo ad ospitare un primo cittadino e non è certo un ospite qualunque come d'altronde non lo sono mai, ma è con grande piacere che vado a presentare l'ospite che ci fa compagnia nella prossima mezz'ora. Siamo riusciti a portarlo nei nostri studi, per questo lo ringrazio anche per aver trovato un po' di tempo in queste giornate così frenetiche e impegnative. Sandro Parcaroli, il sindaco di Macerata. Benvenuto sindaco. Grazie a voi, sono momenti molto frenetici, ho trovato un attimo per venire a voi molto volentieri, è breve e scapperò via subito perché ho altri appuntamenti, però dove posso arrivare e dove posso essere presente a me piace molto. Grazie, grazie sindaco per questa disponibilità, lo vedete, c'è Maurizio Verdenelli, il collega che ci e mi aiuta nel raccontare quella che è in questo caso, Maurizio, una vera e propria nuova storia. Sì, una nuova storia, speriamo che sia davvero nuova perché ogni volta è sempre una storia nuova, anche Romano Carancini si era proposto dieci anni fa come storia nuova e poi è stata una storia meno nuova, è un cicli e ricicli viciani. Qui ci sono degli elementi talmente innovativi che anche noi in questa trasmissione lo saremo, perché? Perché la prima domanda a sindaco è, ma lei come ci ha pensato a candidarsi a sindaco? Guardi, questa è una domanda che mi dicono sempre che mi hanno martellato è, chi te l'ha fatto fare sono cavoli tuoi, a quella che te l'ho fatto, adesso ti rispondo, a quella dei cavoli tuoi rispondo con simpatia, dico a me i cavoli con le patate mi piacciono quindi io il cavoli ci sto. Chi me l'ha fatto fare? Chi me l'ha fatto fare? Nella vita penso che ognuno ha un disegno, chi me l'ha fatto fare? Io sono arrivato a 64 anni e 38 anni che mando avanti una bella azienda, un'azienda di giovani, questa è un'azienda fondata dalla famiglia e ancora familiare. Io ho fatto il passaggio generazionale prima del tempo magari, però ho sentito di farlo perché a 64 anni a stare a lavorare ancora in tecnologia mi sentivo vecchio e io non mi sento vecchio, mi sentivo vecchio in quel settore. Poi mi hanno proposto di fare il sindaco, io sono una persona che ho fatto sempre squadra nella mia vita, ho parlato con tutti, quindi adesso io sono il sindaco di Macerata, il sindaco eletto dal centro-destra, ma vi dico che io sono il sindaco di Macerata, quindi destra-sinistra non ha più importanza, io sono il sindaco. Di tutti. Di tutti. Maurizio, il sindaco Parcaroli l'ha fatta semplice, però quando arriva una candidatura come la sua, in una città come Macerata, che arriva anche dopo un travaglio politico, dove la comunità ha avuto parecchi alti ma soprattutto bassi, che cosa hai pensato da cronista quando hai sentito l'arrivo di questa candidatura così estranea anche dal mondo della politica e dei partiti? È stata una candidatura molto sofferta, perché volevano a tutti i costi candidarlo, che poi non si sapeva se il dottor Parcaroli fosse iscritto o meno alla Lega, non lo sapeva neppure il commissario inviato da Salvini Marchetti. Quindi era l'uomo della Providenza, Sandro Parcaroli era l'uomo della Providenza, che era venuto a pacificare il Messia, che dopo 20 anni dal caso Menghi, Anna Menghi l'ultimo sindaco di destra e centrodestra di Macerata, era venuto a pacificare e a conquistare eventualmente la città. Ci credevano tutti, fino a poco tempo prima l'Abbucato Ricotta era il candidato vincente, io dicevo spesso a Narciso ti piace vincere facile, lui bofonchiava. Quando poi gli ho dato in esclusiva la notizia, lui rimase un po' male, che finalmente il dottor Parcaroli aveva accettato, questa notizia che tutto il centrodestra aspettava, lui rimase un attimino un po' perplesso, diceva bene, così almeno non corro da solo. In realtà ha corso, ma è definito molto staccato, nessuno avrebbe potuto prevedere fino a quel punto. In Inghilterra si scommette su tutto, no? Parcaroli l'aveva detto, vinco al primo turno, e l'avevano un po' preso per visionario. Chi avrebbe scommesso su questa... Nessuno, perché tutti scommettevano su Ricotta vincente. O su un ballottaggio. Assolutamente, ma no, era bello vedere a Macerata, dove tutti corrono in soccorso del vincitore per dirla con Flaiano, che tutti erano pronte a fare liste e listine nel nome, anche di uomini del centrodestra, che erano stati per 40 anni, 50 anni al centrodestra, poi all'improvviso avevano cambiato bandiera. Perché? Perché stare col centrodestra significava perdere. Poi è venuto l'uomo del destino, una telefonata di un certo Matteo Salvini, poi è stata quella determinante a muoverlo, perché io ricordo una telefonata che feci qualche giorno prima al dottor Parcaroli, e lui mi sembrava molto così indeciso, molto indeciso, e aspettava un segno dall'alto, un segno celeste, questo segno celeste poi è venuto. Ed è cambiato tutto, perché i maceratesi, soprattutto la gente di destra maceratese, che è litigiosa, mai divisa, ma sempre divisa, si è trovata sotto le sue insegne. Ed è un uomo che, sì, dicevano che era di centrodestra, ma forse sì, forse no, in ogni caso era un maceratese non di macerata, ma che amava molto macerata. E lo ha dimostrato, lo dimostra tuttora, perché lui, penso che vorrebbe una città unita nel suo nome, vorrebbe unire addirittura, dopo aver unito il centrodestra, vorrebbe unire anche il centrosinistra. Questo sarebbe proprio... C'è stata questa stretta di mano con... Sto facendo anche questo. Sto facendo anche quello. Sindaco, lei ha detto, in campagna elettorale, macerata, dove amerai, vivere e lavorare. Come l'ha fatta questa campagna elettorale? Prima vorrei rispondere a queste cose che avete detto, diciamo, della mia candidatura. Voglio fare un cappello. La mia candidatura era nata nell'entroterra, maceratesi, io sono in camerino, vivo nel comune di Castelmonte, in campagna. Ho vissuto per 18 anni a Macerata, in una via principale di Macerata, in un palazzo principale di Macerata. I miei figli hanno studiato a Macerata finché non sono andati all'università. La mia candidatura era nata per andare in regione, perché noi vivevamo in quel periodo non il Covid, ma il terremoto. Certo. Quindi mi avevano proposto, anche lì ci ho pensato molto e poi ho detto, va beh, accetterò questa candidatura. E questo era fino a gennaio, fino a febbraio. Poi è arrivato il Covid. Il Covid ha cambiato un po' tutte le cose, perché non c'era più, sì, il terremoto è importantissimo, che sto vivendo adesso come sindaco di Macerata, sindaco di Pradovincia, Colignini, stiamo facendo, sta ripartendo la ricostruzione. Finalmente ripartirà la ricostruzione. Però era importante anche affrontare questo problema del Covid. Noi siamo stati in isolamento, marzo, aprile, maggio. Anche la mia azienda ha stoppato tutti i negozi, anche se poteva stare aperto come negozi. Però per serietà e per tranquillità per i dipendenti ho preferito stoppare la vendita dei negozi e praticare una vendita online. A quel punto mi sono ritornate tutte le forze del centrodestra per dirmi noi abbiamo bisogno di una candidatura forte che ci unisce, perché la candidatura di Salvini della Lega c'era con l'avvocato Marchiorri, che io avevo anche approvato, perché io dovevo andare alla regione, e pensavo però di approvare la candidatura di Marchiorri anche perché univa il centrodestra. Ma il centrodestra non era unito, questa è la storia vera di Macerata. Il centrodestra, tranne la parentesi di Anna Menghi, non è stato mai unito. E ci ho pensato molto perché, pensate, io abbandonavo anche di andare in regione per il mio territorio e fare il sindaco di Macerata. Ed è stato, certo, sono stati dei momenti, immagino, impegnativi. Sì, sì, ma il periodo di aprile e maggio è stato molto. E poi ha sciolto questa riserva. Ma ho sciolto questa riserva perché io non sono il sindaco di Macerata, io sono il sindaco della provincia. Ah, del territorio. Io mi identifico come sindaco della provincia. È interessante questo passaggio, no? Ma Pettinari che dice? Lui si sente l'imperatore della provincia, allora. Ma Pettinari è in scadenza, io sono amico di Pettinari. Allora, partiamo da un principio. Io sono amico di tutti. Qualche nemico se lo farà. Ma è più lui che diventa nemico mio che io nemico suo. Io non sono nemico di nessuno. L'atteggiamento è diverso. Guardi, le dico un sogno che ho avuto. E io l'ho detto anche a Rigotta, negli ultimi passaggi che abbiamo fatto insieme. Io una notte mi sono sognato che uscivo su un giornale e la prima pagina era la mia e davo la mano a Rigotta. Ecco, io... Infatti c'è stata la fotografia post-voto. Senta... Dopo dietro quella fotografia... Scusami, Manolita, se posso fare questa domanda, la faccio volentieri. Dopo quella stretta di mano che non prevedeva naturalmente le precauzioni Covid. Eh, nel momento no. Però il significato politico era importante. Cioè, il significato politico era importante. Era importante, però era importante. E dopo quella... Ecco, c'è stato oltre a quello... a quell'immagine c'è stata anche una pregnanza vera, un seguito vero, un incontro vero con il centro-sinistra. Collabora il centro-sinistra in questo momento di emergenza nazionale cittarina. Guardi, io ho avuto contatti con qualche consigliere del centro-sinistra e mi hanno dato l'opportunità, mi hanno dato la loro disponibilità di... Con Rigotta non ho riparlato mai. Vedo solo questi attacchi sui giornali di fare questo, fai questo, fai questo. Ma facciamolo insieme, non devo farlo io. Allora io ti rispondo, perché non hai fatto prima tu queste cose, no? Io non voglio attaccare Rigotta su quello e l'amministrazione Carancini. Io, quando Carancini è andato in Regione, io sono stato contento. Perché sono stato contento? Perché anche all'opposizione in Regione, ma sempre è un personaggio che rappresenta Mangelata. Quindi parliamoci chiaro. Io non voglio nemmeno a Carroquano, nemmeno a Rigotta, però finiamoci con questi attacchi banali, roba del genere, che è solo politici. Lavoriamo insieme. E questo è un appello forte, no? Che arriva. Volevo dire anche questo, legandomi appunto ad Anna Menghi, a un assessore che si chiamava Dante Ferretti, che fu assessore alla cultura, premio Oscar, multipremio Oscar, per sei con la moglie, il Museo Ferretti, che è stata una delle idee forze della lista Macerati insieme di Davide Migliozzi. Ora, Davide Migliozzi mi ha detto io non vedo né destra né sinistra, per me sono importanti i progetti. Parlando con il nuovo sindaco, ho visto un'apertura e io sono disposto a collaborare nel nome del Museo Ferretti, di questo grande maceratese, che ci onora nel mondo, per far sì che il nome di Macerata vada insieme a quello di Dante. Adesso lei mi conferma. Sono pienamente d'accordo, sono pienamente d'accordo, perché io ho detto anche un'altra cosa, quello che ha fatto in questi anni la sinistra di bene, io lo apprezzo. Lo riconosci. Lo riconosco. Dovremo fare tante cose. Io quello che dico, non politico, dico una cosa un po' così, diciamo che anche nella politica ci vuole un'alternanza per me, perché governare per tanti anni la sinistra, vuoi o non vuoi, ha crevato delle cose non fatte bene, delle cose fatte bene. Un rinnovamento anche di politica su persone che danno la mano a tutti, che vogliono far bene la città, per me è importante. Beh, quando si esprimono così tanti cittadini, certo l'area del cambiamento che ha portato anche il centrodestra in regione, spirava forte questo vento, però con Parcaroli al primo turno, con questa percentuale così alta di preferenze, la città si esprime e chiede una discontinuità. Allora, possiamo dire che la prima è quella che riguarda il provvedimento del centro storico? Allora, noi sul programma abbiamo messo delle cose molto importanti, l'industria della digitalizzazione, la scuola di farmazione, il centro storico, il centro storico, il centro, intendiamo che vuol dire centro storico, il centro storico non è le mura, il centro storico è tutto, le varie vie di macerata e anche i vari quartieri. Io intendevo, e mi sono lasciato la delega come sindaco, io mi sono lasciato due delega importanti, una dei soldi europei, perché io come imprenditore so fare i progetti, so dove trovare i soldi, cerco di trovare quei soldi, quindi un collegamento con la regione che abbiamo in questo momento, abbiamo un momento storico, abbiamo un comune di centro-destra e abbiamo anche la regione di centro-destra. Io conosco bene Acquaroli, conosco quattro assessori dei sei lì, ho detto già che vorrei un ufficio anche nel palazzo della regione, perché un periodo della settimana quando avrò, quando la poltrona non mi, mi fa stare anche più tranquillo di andare fuori, andrei anche in regione, anche a Bruxelles a fare questi progetti. Oggi questi porre che arriveranno, questi soldi che arriveranno, questi progetti che dovremo fare, io già volevo iniziare a fare i progetti a ottobre, ma col Covid e con tutta questa, io non ho un minuto di mettermi, quello che dico di fare la mattina non è vero più dopo un'ora, quindi però il collegamento, questo che abbiamo con la regione, è molto importante. E' un allineamento dei pianeti per la prima volta nelle Marche, dopo 25 anni. Quindi il cambiamento per me ci vuole, ci vuole Benvenga, perché io ho creato una giunta di quattro donne e cinque uomini molto bravi, siamo molto affiatati, sto dividendo i compiti da loro e guardi, ho delle donne favolose che stanno lavorando. A differenza di Acaroli che non si fia molto delle donne perché non mi ha dato. Lì non lo so, non voglio entrare dentro. Io avevo nelle mie liste, diciamo, del centro-destra c'erano delle donne molto... Ma le donne ammacerate in politica... Ma guardi, io dico solo una cosa, le donne hanno una marcia più degli uomini, sono bravissime. Il problema delle donne, che io dico che ho visto anche in azienda, è farle lavorare molte volte insieme. Io ho quattro assessori donne che stanno lavorando molto insieme, molto toste, molto che si hanno a fare, sono ripartite a 300 all'ora e la mia giunta mi sta dando una mano molto... Mi sento protetto su tutte le cose che dobbiamo fare. O una bella giunta. La sua vice è una donna, la sua vice, diciamolo, no? La mia vice è una donna, una donna che viene dalla scuola, una donna che viene dall'ambito sociale e una donna che ogni giorno mi dice dobbiamo trovare i soldi per quei poveri, dobbiamo trovare... È molto ansiosa, è molto ansiosa Francesco. Sì, sì, bisogna... Sono tanto bravi che bisogna legarli tutti, che battono... Però sono bravissimi. È determinata, però siamo un altro aggistino. Veramente, ho una bella... Squadra. Squadra. Nella prima riunione del Consiglio Comunale l'hanno un po' attaccata, perché lei, essendo la massima autorità sanitaria cittarina, non ha provveduto a sollecitare l'amico Acquaroli per la nomina al vertice della zona vasta e che è stata lasciata vacante dal dottor Alessandro Maccioni. Attualmente c'è la dottoressa Storti che è anche dirigente, ecco. Però, insomma, ci vorrebbe... Sulla sanità. In questo momento... Voi dovete capire una cosa. Io parlo con la Storti, parlo con Tibaldi, parlo con tutto. Anch'io ho difficoltà di avere un delegatore del direttore dell'area vasta, ma anche la giunta regionale si è insediata adesso. Noi dobbiamo creare una persona che è amata anche da tutti i medici dell'ospedale. Dobbiamo fare squadra anche lì, non c'è Santi che tiene. Non possiamo eleggere una persona che dopo non ha le capacità, ma anche umane, di fare squadra anche dentro quest'area vasta. Perché l'area vasta 3, abbiamo un futuro anche dell'ospedale, abbiamo tantissime cose importanti, a prescindere oggi del Covid, perché anch'io sto uscendo da ieri dei dati sensibili, dei dati che sono sensibili, ma rialaborati, per dare quello che sta succedendo nel Covid e quelli che sono... hanno il Covid e quelli che sono a casa, perché sono stati vicini a persone... Non sono uscito mai su questi dati, perché anche io la piattaforma di trovarli e di trovarli serie ho avuto difficoltà. Io non voglio tirare fuori dati che non sono serie. Le piattaforme sono un paio di piattaforme. Adesso ho allargato questa piattaforma. È da ieri e da due giorni che tiriamo fuori questi dati. Sono dati molto importanti, sono dati che io vorrei anche lavorare statisticamente, fare un programma, mi farò un programma per lavorare questi dati statisticamente, perché sono dati che ci proiettano in quello che sta succedendo. È molto importante perché tutto questo dice adesso chiudiamo il 9, facciamo... Certo, per prendere anche delle decisioni, le ordinanze... Allora, vorrei chiedere una cosa a proposito di questi dati che in ogni caso danno un diagramma in crescita. Sì, c'erano anche qua. Al San Raffaele di Milano è stato istituito un pronto soccorso per sospetti Covid che è stato affidato al professor Tre Soldi. Si potrebbe fare una stessa cosa su... Allora, c'è... Cioè, un pronto soccorso duplex. Allora, noi abbiamo vissuto il Covid fino a maggio, poi da giugno... Sì, da allora ci siamo addormentati. C'è stata l'estate, è stata il mare... C'è stata anche questa campagna elettorale, secondo me... Campagna elettorale... Hanno attaccato il Covid ospital... Campagna... Hanno attaccato il Covid ospital... Hanno attaccato... Insomma, è questo che dico io. Oggi non bisogna attaccare. Bisogna dire, programmiamo. Se succede questo, faremo questo. Se succede quest'altro, faremo quest'altro. Però questa la dobbiamo fare a già maggio. Già la dobbiamo fare sotto il Covid. Ora, io mi trovo adesso in questa situazione. Noi abbiamo una palazzina in malattie infettive a macerati. Che serve questa palazzina? A diione. Se queste persone... Allora, la grande fortuna che io sto riscontrando, però fatemi analizzare bene i dati e fatemi... Che questo Covid... Io forse dico una parola che mi attaccheranno tutti i medici e roba del genere. Io penso che sia più... Meno incisivo di marzo, aprile e maggio. Meno forte. Meno forte. Perché vedo... Meno severo, dicono i virologi. Ecco, guarda, io ai dati di ieri, vi li dico, ho 186 positivi a macerata su 174 persone che stanno a casa perché sono state vicine a questi... Infatti lo dice anche lo stesso CTS. L'isolamento, l'isolamento... E di queste persone, io qualcuno ne conosco, qualcuno l'ho conosciuto, stato a casa, non è forte come era a marzo, aprile che aveva problemi di polmoni, quindi di una... Di un reparto di malattia semi-intensiva e anti-intensiva, che però ce l'abbiamo. Che ce l'abbiamo anche a macerata che però non vuole essere contaminato e ce l'abbiamo a Civitanova. Poi avevamo un altro ospedale, che era quello di Camerino, che non è attualmente utilizzato. Allora, a me quello che mi piacerebbe, a macerata abbiamo 42 posti, sono stati aperti 20 di questa malattia infettiva. A me, perché mi piacerebbe avere un direttore dell'area vasta? Con cui confrontarmi, perché la dottoressa Storti, pureta, tra virgolette, deve coprire... Operatissima. C'è un'operatività, cioè, grande, no? Vero un direttore dell'area vasta, però io vorrei un direttore dell'area vasta, come ho detto, che parlasse con il comune, ma con tutti i gedei, ma con tutti i medici dell'ospedale, con tutti gli infermieri. Forse una persona riconosciuta anche... Quando dobbiamo eleggere un dirigente, deve essere anche riconosciuto nel suo qualità, qualità professionali, ma qualità anche umane. È necessario comunque arrivare a questa nomina, perché appunto i tempi sono quelli che sono e c'è bisogno che le istituzioni abbiano un punto di riferimento per prendere delle decisioni, sostanzialmente. Io non so quello che succederà domani. Allora, la mia intenzione è che non possiamo chiudere, perché l'economia è un altro Covid. Anzi, lei apre la piazza? Sì. Alle macchine? Sì. Alle auto? Io ho un progetto... Quante discussioni su questo centro ZTL di Macerata? Maurizio, la prima nel 1900... Allora, 180, quando vengi qui a Macerata... Io ho una grande fortuna, però. Si creò anche una lista ai cittadini commercianti. In periodi tranquilli sarei stato attaccato. Forse io non ho intenzione di aprire la piazza un domani, ma c'è da fare un parcheggio rampazzare con una rampa che esce sul palazzo della Questura. C'è questi progetti. Certo. Oggi, però, questi progetti e l'arredamento alla città viene dietro, perché prima c'è un'altra esigenza, che devono capire tutti. Noi non dobbiamo chiudere il centro storico e tutte le vie, perché non è solo il centro storico che io apro la ZTL. Io ho in mente, Corso Cairoli, Corso Cavone e anche Via Roma, di dare dei parcheggi gratis. Lunedì ho l'incontro con i dirigenti dell'APM proprio per decidere questo. Perché io ho visto, io sono andato nella mia campagna elettorale, io sono andato dentro le cose, sono andato nelle vie e ho visto le esigenze che hanno. Lei pensi, Corso Cairoli, ci sono più di 100 negozi bellissimi, ma dentro, fuori non si vedono. Ecco il centro commerciale, il design, la struttura, lavorare tutti insieme. Ma oggi ho bisogno di dare a queste persone una possibilità di fare fatturato. Certo, di lavorare. Lei è una donna, deve comprare un chilo di tortellini per la famiglia, se deve parcheggiare giù sotto alle casette, parcheggiare, andare su, prende i tortellini, non lo fa. Se parcheggia un attimo, gli do mezz'ora, entra, compra i tortellini e va via, lei lo fa e lui lavora. Dobbiamo cercare l'economia di proteggerla perché è un nuovo, si chiama Covid-3 l'economia. Se noi perdiamo, e Macerata vedete il centro storico che sta perdendo negozi ogni giorno, però ho detto anche una cosa, sto uscendo e uscirò a Natale. La buona novella di Natale. Ecco, io farò delle buone novelle. Farò dei racconti ai cittadini di Macerata per tirargli fuori quello che hanno dentro. Il sindaco ha sempre, anche in campagna elettorale, non dico giocato è un verbo brutto, ha spinto sul fattore emotivo, emozionale, anche qui la politica è cambiata. Comunque io volevo dire una cosa, il regalo, la buona novella di Natale, l'ho sentita, l'ho trasentita nelle sue parole, parcheggi gratis. Voi dovete sapere che Macerata è una delle poche città in Italia, forse in Europa, magari per mezz'ora ha detto, no? A non avere parcheggi gratis, oddio, i parcheggi gratis ce l'ha perché sono previsti per legge, ma feci una volta un servizio e emersero questi parcheggi gratis, ma come mi disse anche l'avvocato Mandrelli, che abita proprio fuori, quasi fuori Macerata, sono vicino a casa mia, ma ci mettono i camper, i caravan. Infatti io volevo dire dove sono, ma io non l'ho mai trovato. Sì, ma perché sono inutilizzabili in realtà. Bisogna essere seri, no? E ci vanno i caravan, i camper, vita natural durante. Sulle vie periferiche possiamo fare una mezz'ora, perché uno scende, prende e va via, perché se devo comprare una giacca, un vestito, allora ho i parcheggi normali, metto la macchina lì e sto fuori. Nel centro storico, da dove ci spostiamo la piazza per lì, potrei fare anche un'ora. Abbiamo fatto un'ora, diciamo, di parcheggio gratis. Un'ora, i parcheggi sono sempre gratis in quella piazza, un'ora di tempo, diciamo. Anche lì spererei che umanamente anche tutti i commercianti non vadano a parteggiare lì e poi ogni ora vanno a cambiare il disco orario. Cioè ci vuole buon senso da tutti. Però lei sogna una città diversa, una macerata diversa, no? Come George Clooney, immagina. Io sogno una macerata diversa. Io mi sono candidato per portare ad essere macerata a una città diversa. Avrò le capacità? Oggi abbiamo un'opportunità grandissima. Stanno arrivando, arriveranno questi famosi soldi europei. Poi dopo ci sono anche quelli del MES. C'è una dibattria, se accendi la televisione diventi, non capisci più niente. Io confido che arriveranno questi soldi. E come dire, arriva l'ultimo treno. O lo prendiamo e saliamo su tutti insieme, ma tutti, tutti insieme, cittadini, commercianti, associazioni, cooperativi. Tutti. E insieme costruiamo un nuovo territorio provinciale e macerata diversa. E la porteremo verso l'alto, non a dare i contentini e rimanere. Io ti do un contentino, andando sopravvivi quest'anno. Ma dopo quest'altro anno. Quindi portare a ritornare una macerata, io la dico, l'Atena e le Marche. Difatti ho ristaurato un buon rapporto con il Rettore. Prima non c'era, negli ultimi anni non c'è stato questo rapporto. Assolutamente no. Io ho il rapporto con il Prefetto, ci sentiamo una volta al giorno. Per condividere tutte le cose che può succedere. Mi contatto, ho il buon rapporto con la Chiesa, ho un buon rapporto con il Vescovo, l'Eccellenza del Vescovo, l'Eccellenza del Perfetto, con il Questore. Lavoro con la mia forza e lavoro con tutti. Parlo con tutti i commercianti, sento il loro bisogno e certo che il Sindaco dopo deve decidere. Sarà una macerata meno accogliente? Mi parli di... Sì, sì. Anche lì io ho stoppato... Della gestione del... Della gestione del... Della... Io l'ho stoppata per vederci chiaro e fare un bel progetto. Ho avuto dei post negativi, ma tanti positivi. Io non sono contro l'accoglienza. Guardate che io... Il libro più coletto, perché non letti tanti, ma un più letto che mi è rimasto nel cuore... E quando si parla di cuore, un attimino... Eh, ci sta, ci sta. Allora, il libro più coletto, a 5, 6 anni, 7 anni, quando ho cominciato a leggere, era il libro cuore, di De Amicis. Il libro cuore parlava, un racconto del libro cuore, parlava di questo ragazzo che da Genova... Si spostava... In Argentina per trovare la madre. E poi le vissi giù due, perché la madre si spostava in Argentina, a solidarietà di paesi, l'Argentina è grandissima, così. Quindi noi siamo andati... Dalla Pennina alle Ande, si chiamava. Dalla Pennina alle Ande. Noi siamo andati in Australia, noi siamo andati in America, ma siamo andati e l'italiano si è imposto lavorando pure. Lei dice che siamo un popolo di migranti noi stessi. Siamo stati. Allora, io non sono contro l'immigrazione. Io non sono contro l'immigrazione. Guardate che a Macerata dobbiamo accogliere 103 persone sull'organigramma italiano. Sì, le indicazioni che arrivano dalle prefetture. Le cui ne sono 20 che può fare il prefetto nel casse, come si chiama, tutte queste sigle che mi bombardano. Sono bombardato da 3.000 sigle, no? E poi c'era questa associazione e l'accoglienza. Io non l'ho detta che non la farò, l'ho sospesa per vederci chiaro, per vederla fatta bene, perché queste persone che hanno bisogno di venire da questi paesi dove c'è guerra, oppure c'è tante cose, noi non possiamo non accettarli. Ma dobbiamo educarli, fargli conoscere le regole di noi italiane e non voglio che dopo sei mesi mi ritrovo perché è finito e quella società ha preso i soldi e quella che voglio dire, ma non faccio il nome, ne ha presi tantissimi, tanti. A me non mi sta bene, mi sta bene che è quella che facciamo un'accoglienza, formiamo e non dico che la facciamo a trovare lavoro perché il lavoro dobbiamo trovarlo anche agli italiani, però li indirizziamo verso dei settori e verso una certa cultura che possano trovare lavoro e non me li ritrovo sul mio letto a speciare droga o prostituzione e roba del genere. Macerata non ha più bisogno di queste cose. Sarà un percorso non semplice perché poi ci sono delle regole da rispettare che vengono anche dai livelli più alti perché ogni territorio ha una quota, è brutto dirlo così perché si parla di persone, ha una quota di accoglienza, ma certamente la gestione, mi sembra che Parcaroli voglia fare chiarezza su questo, sulla gestione. L'abbiamo sospesa, l'abbiamo sospesa perché ce la troviamo di rinnovare immediatamente, io voglio vedere, sono entrato adesso, ci ragioniamo e lo vediamo. Sempre per parlare di sogni, poi chiudiamo, lei ha detto la nuova Atene, ambizioso. Ma era anche classificata, me leggendo anche nei tempi dietro parlavo di Macerata di quest'Atene, allora in Atene che c'era, io in Atene ci sono andato dieci volte, ho visto tutti i monumenti Atene ormai distrutti, però sempre con certo fascino. Però in Atene che c'era? C'era il governo della città, ma intorno al governo c'erano i famosi saggi. Questi saggi erano persone che sapevano, sì anche di guerra, ma sapevano soprattutto di cultura e di arte. E quindi io voglio ricreare questo ambiente, quindi riportare Macerata ad essere una città di cultura, di arte, dove vivere e lavorare, il mio moto è molto importante. Il grande saggio, Parcaroli, non il sindaco di tutti. Una mano gliela darà Silvano Iommi. È il saggio. In questo senso. Ma Silvano Iommi è un architetto urbanistico con delle capacità tantissime. Storico anche. È logico che, come tutti gli architetti, viaggiano anche su dei progetti e io devo tenerli un po' a bada, però è una persona squisita che anche lui si è messo in gioco con l'età avanzata, un po' più di me che ha, ma la mia giunta è fatta di persone brave. E che lavorano. E che lavorano. Allora, Maurizio, noi siamo in chiusura. Facciamo promettere al sindaco di tornare a trovarci e facciamo il punto a mandato. Un'altra promessa gli volevo estorcere. Questa gliela estorco io. Torna a trovarci? Quando, diciamo, anche prima, ma quando è fatta le ciliegie sul prato 2, ci vedi. Perfetto. A proposito di attenere le marchi, volevo estorcere al sindaco una promessa che è stata sempre disattesa dai suoi predecessori. Il ritorno del museo di risorgimento, il museo Caribaldino, che purtroppo è nelle... Guardate, non ve lo dico perché è un progetto che ho dentro la tasca. Ma se gliela faccia fare una cosa... Allora, noi abbiamo tanti palazzi a Macerata, no? Però parliamo del palazzo della Banca d'Italia, parliamo dove vogliono fare un albergo, un piazza Mazzini. Abbiamo questi palazzi. Beh, io non ho un palazzo. Ho un'idea sulla testa di una cosa che sono 40-50 palazzi. Se la prendo e gliela faccio a trovare i soldi per farla, allora possiamo fare i musei che vogliamo. Possiamo fare la scuola in alta formazione, l'industria della digitalizzazione. Possiamo portare tutte le associazioni a avere una scrivania, un locale serio. Non come adesso che si scambiano scrivani. Adesso è tutto rimediato a Macerata. Io voglio, questo ce l'ho, se la faccio a questo ce ritorno 10 volte qui. Perché è un progetto che porterò il mio nome a essere anche ricordato. La visione dell'imprenditore. A proposito di visioni, una battuta, l'ha incontrato Steve Jobs. Cosa ricorda di quell'incontro? Steve Jobs era alto come me. Camminava un po' più goffo, adesso sto camminando anche goffo anche io con l'età. Ma allora avevamo 25 anni, 26 anni. Io sono nato nell'85, quindi 56-85, fate i conti quanto avevo, no? E lui aveva un anno più di me. Allora, internet non c'era allora. E io avevo, mi ero spostato nell'85, perché me lo sono spostato nell'83. Mi era nato mio figlio a febbraio, il primo figlio. Andavo a lavorare con questi prodotti, non conoscendo bene l'Apple. Sì, la conoscevi dalle riviste. Sono andato a trovare l'Apple. L'Apple stava a copertino, aveva palo alto in altre basi e mi ha fatto visitare, lui personalmente, insieme ad un altro gruppo che eravamo, una delle poche fabbriche che Apple ha avuto in America, perché adesso produce in India, produce in Cina, produce in varie regioni, non in più in America. Però allora il primo meccino, se ve lo ricordate, con un affarino così, con un video così, con quello scritto perché c'era il mouse, quindi parlo dell'85, lo costruivano a palo alto, su una fabbrica dove lavoravano 600 persone, tutta robotizzata, tutti messicani, donne e uomini, erano più donne che uomini, e lui mi ha presentato questa fabbrica. Ma quello che è stato importante è vedere l'Apple a copertino, queste palazzine, fiori, tutti in silenzio che lavoravano, le mense, la silini dove avevo, e vedere questa persona che aveva uno spirito di raccontare. Se vieni in azienda è lo stesso stile mio, ti faccio vedere quello che abbiamo fatto come azienda nuova, la palazzina nuova che abbiamo fatto è l'azienda, è stata nel mio cassetto dall'85, perché avendo visto quelle palazzine e robe del genere, volevo rifare una cosa anche per la mia azienda qui a Macerata. Finalmente ero fatta. Ce l'ha fatta. Chissà che c'è nel cassetto del sindaco per la sua città, non per la sua azienda. C'è un progetto grandissimo, ma non ve lo dico, perché voglio che state con la lingua di fuori a aspettare. E che aspettiamo. Posso fargli un'ultima domanda, perché cosa consiglierebbe a Maurizio Mosca, che è stato uno stratega della campagna Centro-Resta, in questi momenti così difficili per lui? L'hanno attaccato tutti, mi hanno messo anche delle foto con me. Io sono un amico di Mosca, allora io sono uno garantistico, finché uno non è portato accusato, adesso non si può rifare quelle cose. Lui si deve difendere di quello che ha fatto. Io ho la vigilanza come persona a Mosca, come l'avrei se anche Ricotta fosse accusato di qualche cosa. Io l'ho la vigilanza. Finché non è accusato e diventa lì, per me è una persona che non deve essere trattata in questa maniera. E poi con lui, ieri c'era fotografia mia di Acquarori, di Patassini, Robert Geni, associate a... E io, se esso c'era qui, lo abbracciavo e gli davo una mano. Perché è così da fare. Le persone devono essere corrette fino all'ultimo, non portare a avere una sentenza prima che la sentenza c'è. È guai a farla sui giornali. No, a me non mi sta bene, è guai a farla sui giornali. Quando un giornale, un attestato, lo sfrutta queste cose e mette vicino delle persone, come dire, vedi, guardate, lui è stato così, ma guardate chi c'era vicino. La gente è cattiva. Allora, è questo. Io non sono cattivo e voglio che la gente non è cattiva. Perché la gente cattiva ci penserà a quello lassù. E lei parla molto di amore, soprattutto per la sua città. Grazie, grazie al sindaco. Una città purtroppo finora in disamore. In disamore. Per usare un titolo di un libro famoso di Bevilacqua. Lei venga con me oggi a Macerata, andiamo in giro e vediamo le persone che mi firmano. No, quello sicuramente. È una cosa entusiasmante. E quello le darà anche tanta energia perché ne ha sicuramente bisogno. Ci sono tante cose da fare. Noi siamo davvero in chiusura. Grazie a Sandro Parcaroli per questa bella chiacchierata. Buon lavoro. Grazie a voi. Buon lavoro davvero. Ci ha fatto qualche promessa. Mauretio... Allora, io vi sono vicino come sindaco a la struttura che avete, che è una bella struttura. Voi state vicino anche a me. Nel lavorare insieme. Poi ognuno il suo ruolo. Io le risponderò come le ha risposte a questa sua esortazione Salvini. Conti su di noi. E noi contiamo su di lei. Grazie. Maurizio, questa puntata vorrei chiudere con te, con un brevissimo ricordo. Fai come vuoi. Dedicato a un collega, Pino Scaccia. Un collega che nelle Marche ha lavorato. Un giornalista che ha raccontato tante cose anche in zone particolari, pericolose, in zone di guerra. Ed è un collega che è scomparso e che tu hai conosciuto. Sì, era un amico, Pino. Noi ci eravamo conosciuti nel lontano 80, il giorno della franna di Ancona, che coincideva poi con il giorno della nascita di mio figlio Benedetto. Io fui costretto ad andare sul posto. Ero appena arrivato nelle Marche, dall'Abruzzo, dove avevo diretto la redazione di Chieti. E trovai Pino Scaccia. Pino, che era romano e era venuto nelle Marche per amore, poi però per la nostalgia che aveva per la sua città a Roma, voleva rientrare. E dopo aver lavorato al Corriere Adriatico, in cui fu amico di Franco Elisei, che è l'attuale presidente dell'Ordine dei giornalisti delle Marche e collega al Messaggero, e dopo voleva rientrare. Per questo si raccomandava, uso questo termine, continuamente ad Ermete Grifoni, un carissimo collega, redattore capo del TG. E Pino lo seguiva continuamente. E lì ci siamo di nuovo rincontrati, diventati molto amici. A lui si devono tanti scoop, l'abbiamo letto, l'abbiamo sentito. Uno, però, non l'ho sentito ricordare ed era questo che, proprio nelle Marche, a lui aveva lanciato e scoperto un tale che si chiamava Claudio Baglioni. I nonni erano addirittura di preci. Lo incontrò, gli diede un passaggio, mentre a piedi risaliva per le cave di Sirolo per partecipare a un festival di cantautori sconosciuti. Lì lo lanciò con un grande articolo e Claudio Baglioni gli è stato sempre grato a Pino Scaccia. Ci siamo rivisti e risentiti, ci rivedevamo spesso quando lui tornava nelle Marche, di cui aveva assunto questo termine che dava lo spessore, la cifra del suo operare. La fatica. Solo nelle Marche ho trovato questo termine. La fatica per dire lavoro, perché è davvero faticoso il lavoro. Perché lui era un giornalista che non se la tirava, che non era un inviato che dalla camera da letto, da un ufficetto, di una redazione, facendo finta di stare a Timbukuttu, stava magari a Chieti o a Macerato o a Perugia. No, lui andava sul posto a Kabul, ci andava a Natale, Capodanno, quando non c'era neppure una luce. Lui è stato sempre sul fronte, questo bisogna dirlo. Beh, lui parlava di fatica, che l'80% del lavoro è la fatica, perché senza fatica, senza andare sul posto, senza tagliare l'erba sul campo, come diceva il mio maestro, non si riesce a capire la realtà. Pino era così, ci eravamo risentiti per la presentazione di un mio terzo libro su Enrico Mattei. Dopo era diventato una star, anche da pensionato, Mondadori gli aveva fatto un tour tutti i giorni, doveva partecipare a qualche presentazione. Trovammo anche una data, dopodiché saltò tutto quanto e non ci siamo più rivisti. Era molto amico di Maria Grazia Capulli, a me molto cara, perché iniziò proprio con la mia redazione a Macerata, e veniva con Maria Grazia a Matelica a presentare qualche suo bel libro. Ed è stato anche al funerale di Maria Grazia a Camerino. E quindi ci piace ricordarlo così, anche da questo nostro studio. Una bella storia. Una bella storia anche di... Maceratese, Marchigianna, di questi luoghi. Di fatiga, si potrebbe dire. Di fatiga. Di aletto, Maurizio. Di fatiga. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi per avermi dato la possibilità di ricordare. Grazie a voi, grazie a tutti, un saluto a tutti i cittadini. Grazie, noi ci vediamo settimana prossima con una nuova puntata, è la stanza del Sindaco. Grazie a tutti.